Un'estate 2020 sicuramente atipica ma che in un'area come quella della campagna, contenitrice di immense bellezze, rappresenterà la concreta opportunità per far decollare il settore turistico della regione attraverso la promozione dell'offerta ricettiva. È la convinzione di Giovanni D'Avenia, Vice-Segretario regionale Centro Democratico. Innanzitutto, vivendo il territorio, in una campagna sicura, noi potremo svolgere le prossime vacanze in tutti i posti belli della regione campagna perché accanto ai posti famosi della costiera amalfitana, costiera cilentana, i tempi, ci sono tante bellezze naturali e tanti borghi che sono sconosciute anche a noi. Approfittiamo di questa opportunità per vivere le bellezze del nostro territorio, sfruttando il bonus vacanza che ci è stato dato dal governo e soprattutto rilanciamo il settore del turismo per dare la possibilità innanzitutto ai nostri albergatori, attività extra alberghieri, al genato locale, di potersi riprendere e dare la possibilità a tanti giovani e alle loro famiglie che possano comunque dare una speranza rispetto al mondo del lavoro. E' anche un segnale di sicurezza? Sicuramente anche il New York Times ha detto che la campagna è un luogo sicuro, ma gli albergatori e gli operatori devono essere aiutati sia dando la possibilità di poter usufruire di questi turisti, soprattutto campani, ma vanno aiutati anche nella semplificazione burocratica e in questi iteri amministrativi. Stanno avendo una serie di difficoltà anche rispetto a queste difficoltà che vengono imposte dal governo. Da un lato, per fortuna, si sta sbloccando anche la detta questione degli ammortizzatori sociali perché un sacco di lavoratori, anche stagionali, non percepivano questi ammortizzatori. E quindi noi sfruttiamo questo territorio, sfruttiamo queste bellezze, mettiamola a sistema e invitiamo anche tanti campani che stanno fuori dalla nostra regione a venire a trascorrere le prossime vacanze qui in campagna, in particolar modo nella provincia di Salerno, in un posto sicuro e in luoghi belli.